La stagione dei saldi invernali è partita ufficialmente ieri e nonostante le tendenze degli ultimi anni all'acquisto online o nei centri commerciali, rappresenta comunque un momento importante per i commercianti della città di Sciacca. La conferma arriva da Giuseppe Caruana della Confcommercio. È chiaro che in questi ultimi anni, in particolare, a fronte anche di nuove tipologie di mercato, il cybermercato è un dato di fatto ed è in continua crescita ed è una fetta di mercato che si toglie alle attività commerciali locali, quelle di vicinato. E soprattutto poi il fatto che durante l'arco dell'anno, tra promozioni e anche giornate Black Friday o Cyber Monday, appunto diventa oggi il momento molto meno significativo da un punto di vista commerciale rispetto al passato. Quindi però dobbiamo dire che è sempre un'aspettativa importante. L'osservatorio di Confcommercio ha diramato dei dati ufficiali per quanto riguarda la previsione di spesa pro capite che si attesta intorno ai 120 euro pro capite e intorno a 230-250 a famiglia, nucleo familiare per quanto riguarda. Sono stime naturalmente molto ampie che poi si vogliono riversare sul locale, quindi comunque la tendenza è questa. A fronte per esempio di dati completamente diversi che arrivano anche dal nord Italia, in cui la spesa media a famiglia supera le 350 euro. Ecco, queste sono anche le differenze tra il nord e il sud in termini anche di economia e di commercio. Ciò detto, i saldi sono un momento significativo dell'inizio anno commerciale, perché poi alla fine stiamo iniziando il 2019, anticipando i saldi, tra l'altro rispetto a tutte le altre città, solo la Basilicata e la Sicilia sono partite in anticipo. Con qualche polemica anche da questo punto di vista, perché sia Federmoda che la Confu Commercio di Sicilia aveva espresso l'intendimento di partire in piena sinergia o in contemporaneità con tutta la parte dell'Italia. Lei citava delle stime sulla base della disponibilità delle famiglie, c'è da chiedersi però quanti di questi soldi poi rimarranno a sciacca e non verranno spesi invece, come succede anche nei centri commerciali di altre città, capoluoghi di regione. E questo è un altro dato che si cala sul piano locale. Una città che ha perso anche la capacità di attrarre la clientela dei comuni dell'Interland. C'è una mancanza d'appeal che la città in questo momento secondo me sconta tantissimo, cioè non c'è più un'attrazione per poter arrivare a sciacca e quindi fare dello shopping, è un momento di tranquillità, di passeggio e di visitare anche la città, soprattutto dei paesi limitrofi, che purtroppo continua ad essere un dato in tendenza negativa. E quindi una buona parte, purtroppo guardando proprio sul piano locale, una buona parte di quelli che saranno le economie dei saccensi probabilmente andranno fuori sciacca da questo punto di vista. Da questo punto di vista possiamo dire che sciacca si è impoverita? Come negli ultimi anni? Si è impoverita il tessuto sicuramente sociale ed economico, mi pare che non abbia in questo momento grandi spunti da sostenere. Sul piano commerciale abbiamo già denunciato la difficoltà di mantenere le salasinesche alzate e certamente questo è un dato che va affrontato con l'amministrazione comunale. Noi abbiamo già presentato una ricca documentazione, attendiamo qualche esito da questo punto di vista, subito dopo le festività, abbiamo incontrato, seppur via informare l'assessore Leonte che è l'assessore al commercio, non c'è stata una piena sinergia, per come si intendeva a mio modo di vedere, con il centro commerciale naturale che invece si era posto in maniera propositiva, ma purtroppo da questo punto di vista si continua ad avere un'organizzazione molto improvvisata e superficiale che non agevola il percorso in controtendenza a cui dovremmo puntare in questo momento.